Un momento di confronto e approfondimento importante oggi all'Aquila per parlare di traumi individuali e collettivi in salute mentale, evento di portata nazionale organizzato dall'Università dell'Aquila con il Dipartimento di Medicina Clinica e dall'Associazione Smile Ollus Rocco Pollice con diversi patroceni. Un momento importante appunto per parlare dell'impatto sulla salute e sulla salute mentale delle popolazioni che si sono trovate ad affrontare eventi traumatici come all'Aquila il terremoto ma anche pandemia, guerre o migrazioni con un'attenzione importante alle mineranze sessuali con i fattori di stress indotti da una cultura ostile omofoba che spesso si traduce in una vita di molestie, maltrattamenti, discriminazione e vittimizzazione. Le conseguenze del distanziamento poi dell'isolamento e dell'interruzione dei rapporti interpersonali a causa del covid hanno condizionato la qualità della vita delle persone ma anche la salute mentale e le funzioni cognitive dei giovani adulti ma va considerato pure il disagio patito dagli operatori della salute snocciolati anche dati importanti sull'impatto della pandemia sulla salute mentale per il Natale. Tutti gli autori, tutti i relatori di questo convegno porteranno un contributo proprio per illustrarci chiaramente in relazione a queste pandemie qual è l'impatto sulla salute mentale sicuramente non sempre attribuibile, solo attribuibile a un disturbo post-traumatico da stress ma con una serie di conseguenze che sicuramente sono particolarmente importanti per il funzionamento della vita delle persone, per il loro benessere, per la loro qualità di vita. Sicuramente due anni di pandemia sono stati particolarmente importanti dal punto di vista dell'impatto che hanno avuto soprattutto sui giovani, sull'isolamento abbiamo infatti registrato per esempio un aumento dei comportamenti di autolesionismo, sicuramente c'è un accesso molto rilevante per disturbi d'ansia, per disturbi depressivi e io parlerò appunto del fatto che allo stato attuale molti ragazzi arrivano non con diagnosi categoriali ma con delle dimensioni psicopatologiche importanti fra cui per esempio anche la rabbia, questa grandissima aggressività nei confronti di se stessi e nei confronti degli altri. L'organizzazione ha voluto poi dare un riconoscimento alla regista Maria Cristina Giambrumo per il suo impegno in questo campo attraverso il teatro, premiati anche giovani ricercatori che hanno partecipato alla sesta edizione del premio scientifico Rocco Pollice promosso dalla famiglia e dall'associazione Smile Hollus Rocco Pollice per onorare annualmente il suo impegno alla dedizione al lavoro e al progresso delle scienze mediche nel campo della salute mentale.